Io faccio l'allevatrice, faccio nascere voci. Quando nel mio mestiere nasce una voce, dopo un po' di gestazione, un po' di lavoro, finalmente si esprime, io mi emoziono e mi commuovo perché una nascita è sempre una delle cose più belle a cui si può assistere e quella della voce, vi assicuro, mostra dei segreti e svela delle profondità che alle volte è difficile immaginare. Questo metodo che è un po' particolare perché vada più al percorso che al diventare qualcosa che gli altri si aspettano, vada più al diventare qualcosa che noi siamo ed esprimere completamente. Per lavorare con questo metodo qui che io ho chiamato Accanto, potete farlo sia a collezioni private sia al centro musicale Ilario Escobar, il CINIE di Via Cini Schiaventi, potete farlo nei miei seminari che si chiamano Non mi somiglia per niente e sono dedicati a chiunque non si riconosca perfettamente nella propria voce, quindi sono seminari sull'identità vocale e poi si può lavorare come anche nell'unicoro che è un coro un po' particolare che invece di dare voci alle canzoni, dà voci alle cose, un coro che sonorizza quadri, danze, eventi. Io, prima di andare via, vorrei fare un accordo con voi. Questi sono gli accordi che secondo me fanno crescere il mondo. Grazie. 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 Grazie.